Siete pronte per l'interrogazione? Sì. Sì. Nome? Giovanna Lucido. Sveva Monizio. Sveva Monizio. Età? 38. Il morto che parla. Cosa fai su AP Web Radio? Conduco un programma. Conduco un programma. Titolo del programma? Sepolti? Nel tempo. Di cosa parlerete? Ma di lutto nella storia. No, della versione paranormale e di cosa servono ai defunti nella sepoltura. Quando andrà in onda il programma? Domenica. 9 ottobre. A che ora? Alle 21. Chi è la più brava a condurre? Io. Giovanna. Chi è la più preparata? Sveva. Io. Chi è la più fifona? Giovanna. Salutate. Ciao. Ciao. Salutare. Nuotare. Sveva. 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 Nome. Giovanna Lucido. Sveva Molinaro. Cognome. No, mi fa terribile che mi si scola perché non sono abituata. Ai Dio, perché faccio queste cose con voi? No. No. Grazie a tutti.